Allora, qual è il prossimo passo avanti che noi possiamo fare? Non tanto ripetere o aggiungere qualcosa alla critica. Cioè che questo modello è inadeguato all'essere umano, è davvero un'evidenza che può essere riconosciuta da tanti lati. Nonostante la produzione di ricchezza materiale, per carità di una serie di elementi che dal punto di vista materiale dicono che questo sistema è il più produttivo della storia. Non c'è mai stato un sistema al mondo che avesse questa creatività materiale, questa capacità di produrre ricchezze. E semmai, ho sentito qualche volta degli economisti aggiungere, parlo degli economisti ortodossi, aggiungere e poi le morti per fame in fondo sono inferiori a quelle degli altri secoli. E con questa notazione il problema era chiuso. Come dire, siamo nel migliore dei mondi possibili.